Alfonso Navarra, portavoce dei sarmisti esigenti, presentiamo qui a Bucsiti il libro La folia del nucleare come uscire con la rete ICAN, acronimo che sta per campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari. Gli autori sono il sottoscritto Alfonso Navarra, Mario Costinelli e Luigi Mosca. Poi ci sono vari contributi, c'è la presentazione di Alex Zanotelli, la prefazione di Alex Zanotelli, l'introduzione di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici e ci sono molti interventi. Questi interventi alcuni li riporteremo nel nostro video che abbiamo preparato per questa edizione di Bucsiti. Comunque nel libro gli interventi sono di Vigilio Bettini, appena scomparso, docente di analisi e valutazione ambientale presso l'Università di Venezia. Giuseppe Bruzzone, sarmista di ispirazione fornariana. Luigi Cadelli, docente di MUN di Milano, un progetto di educazione agli studenti alle pratiche del diritto internazionale. È un'imitazione dell'Assemblea dell'ONU da parte degli studenti. Giuseppe Marazzi, anch'esso scomparso, presidente della Lega Obiettori di Coscienza. Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link. Giovanna Pagani, presidente onoraria di Wilf Italia. Roberto Meregalli, viati costruttori di pace. Fabio Strazzeri, avvocato soccorso verde. Giuseppe Farinella, direttore editoriale del Sole di Parigi. Michele Di Palantonio, presidente dell'Associazione Italiana Medicina per la Prevenzione della Guerra Nucleare. Dunque, i disarmisti esigenti sono appunto membri di questa campagna internazionale e libro, possiamo considerarlo uno strumento di lotta di questa campagna che ha raggiunto una pietra miliare. Il 24 ottobre abbiamo avuto la cinquantesima ratifica di stati del Trattato di Prevenzione delle Armi Nucleari che lo fa entrare in vigore. Quindi abbiamo avviato il percorso per mettere al bando le armi nucleari e questo deve essere collegato anche a una serie di percorsi, sia istituzionali che di movimento, per arrivare all'eliminazione effettiva delle armi nucleari. Noi ora in questo video presenteremo interventi di personalità a sostegno di questa campagna di questo percorso per mettere al bando le armi nucleari. Un percorso che è accidentato perché la minaccia atomica è un grosso rischio e di questo tratta la conferenza stampa che presenteremo all'interno del video, che si è tenuta il 25 settembre al Senato della Repubblica, presso la sala Nasseria. In questa conferenza stampa denunciamo appunto il rischio che la guerra nucleare per errore possa diventare ancora più probabile e pericolosa a causa degli sviluppi tecnologici, in particolare la tendenza ad affidare all'intelligenza artificiale il comando e il controllo della comunicazione delle armi nucleari. In questa conferenza proponiamo il lancio dei comitati Petrov, cioè di iniziative a livello locale perché siano intitolate vie, piazze, giardini, biblioteche e monumenti. A Stanislav Petrov il militare sovietico che il 26 settembre 1983 riusciva evitare una guerra nucleare per errore dovuta a falsi allarmi di computer. Questo per dire che è una minaccia molto grave per cui dobbiamo stare molto attenti. E noi presentiamo questa conferenza stampa del 25 settembre proprio per ribadire che questo libro, con tanti interventi ma anche con analisi documentate e approfondite, rappresenta lo strumento di una lotta che sta andando avanti e che si spera arriverà entro breve a delle conclusioni positive, nel senso di liberare il mondo da questa minaccia dello sterminio nucleare. Sono Monio Vadia, io sostengo ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari. A ICAN è stato conferito il premio Nobel per l'importanza del suo magistero di pace, premio Nobel per la pace. Diventiamo tutti insieme a ICAN attivisti di pace, uomini di pace. La questione che è in campo è assoluta, è la questione della vita. La differenza fra chi combatte per l'abolizione delle armi nucleari e chi invece non fa nulla è indifferente, è la differenza per chi vuole stare dalla parte della vita e chi invece accetta l'abbraccio della morte come condizione di esistenza. Dunque, sostenete questa campagna. Diventate attivisti della vita e non è difficile capire che cosa è in gioco. Siamo in gioco noi, ma sono in gioco i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri pronipoti. E cominciamo dall'abolizione delle armi nucleari perché un giorno ci sia l'abolizione totale delle armi. Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai. Questo motto lo dobbiamo al nostro grande presidente partigiano Sandro Pertini che sicuramente, fosse ancora vivo, avrebbe gioito alla notizia che il mondo sta per proibire le armi nucleari. C'è stata l'adozione di un trattato di proibizione delle armi nucleari in una conferenza ONU il 7 luglio del 2017. Questo voto di 122 Paesi richiede un processo di ratifica. Entrerà in vigore questo trattato 90 giorni dopo che il cinquantesimo Stato avrà ratificato il testo del trattato. Questo trattato è stato dovuto anche e soprattutto, io credo, alla spinta organizzata della Società Civile Internazionale che si è aggregata intorno alla campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, Ike Eichen, che in virtù di questo contributo nel 2017 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Quando questo premio è stato ritirato a Oslo, la direttrice esecutiva della campagna ha riconosciuto che si tratta di un riconoscimento, questo Nobel per la pace assegnato alla campagna internazionale, dovuto all'impegno antinucleare di tutti gli attivisti del mondo. Ed è stato fatto un invito a unire e allargare le forze per passare da questa proibizione, ricordiamo occorre ratificare questo trattato e l'Italia deve essere tra i paesi che al più presto si aggiunge ai dieci che in questo momento in cui io parlo sono Alfonso Navara e i disarmisti esigenti hanno già ratificato il trattato. Sono padre Alex Zantelli, missionario combognano. Sono profondamente solidale con Alcani, che ha ricevuto fra l'altro il premio Nobel per questa campagna per l'abolizione delle armi nucleari. Sono contro tutte le armi nucleari, prima di tutto come credente nel Dio della vita che mi impegna, che mi porta a impegnarmi contro ogni forma di morte e l'atomica è uno strumento di morte, di morte globale. Secondo come missionario sono contro le armi nucleari perché le armi nucleari proteggono che cosa? La profonda ingiustizia, cioè proteggono quel dieci per cento della popolazione mondiale che oggi consuma il novanta per cento dei beni in questo mondo. Io non posso accettare un disordine del genere, ecco perché ritengo fondamentale questa campagna e chiedo che l'Italia firmi finalmente il trattato dell'ONU per l'abolizione delle armi nucleari. Buonasera, sono Laura Tussi, faccio parte della redazione dell'associazione ecopacifista Peace Link, telematica per la pace. Sono promotrice dell'associazione Disarmisti Esigenti, promotrice e portavoce e faccio parte della rete internazionale ICAN per il disarmo nucleare universale che è stata insignita premio Nobel per la pace 2017 per promuovere il progetto storico del diritto internazionale e l'abolizione degli ordini di distruzione di massa nucleari. Il governo italiano non ha ancora approvato e ratificato il trattato del 7 luglio 2017, il trattato ONU che c'è valso il premio Nobel per la pace 2017 e che è stato approvato a New York a Palazzo di Vetro con 122 nazioni e la società civile organizzata in ICAN. Il trattato ONU del 7 luglio 2017 supera il vecchio TNP, trattato di non proliferazione degli ordini nucleari che legittima il nucleare per alcuni stati e superpotenze e approva invece l'innovativo TPN, il trattato per l'abolizione degli ordini nucleari. Ciao, sono Luigi Ciotti di Libera e del Gruppo Avere e sostengo anch'io la campagna Siamo tutti i primi Nobel per la pace con ICAN per l'abolizione e abolizione delle armi nucleari. Lo sostengo con convinzione, oggi più che mai, che tocchiamo con mano tanti conflitti, tante guerre. Sono 47 ufficialmente i paesi coinvolti in questi conflitti, ma sono migliaia le armi nucleari operative, sono milioni profughi. Si parla del 90, 95% della percentuale di civili fra le vittime, il doppio delle precedenti guerre mondiali. Sono circa 357 milioni di bambini, 1 su 6, che vivono attualmente in zone colpite da conflitti, esattamente il 75% di più rispetto a 25 anni fa. Allora perché l'Occidente continua a ignorare quando non a favorire guerre feroci che trasformano tanti paesi in un mattatoio? È un oscelario niente affatto di pace, eppure in gran parte taciuto, ignorato, censurato, data l'enormità degli interessi in gioco. Credo che si debba dire vergogna. La spesa militare mondiale l'anno scorso tocca una cifra impressionante, 1739, dato ufficiale, miliardi di dollari. È una vergogna, l'Italia occupa l'ottavo posto nelle esportazioni di armi, armi che vende anche a paesi colpevoli di gravi di odazione dei diritti umani. Interga una legge che metteva i paletti, la legge 185 del 1990. L'aspetto più indecente del problema è allora la commissione tra le guerre e l'economia del profitto, guerre combattute con armi, no, anche con armi economiche. Per questo l'abolizione delle guerre e delle armi deve passare per la costruzione di giustizia, di un nuovo rinnovamento culturale. Ma deve tutto questo calarsi in un più ampio discorso di promozione dei diritti umani, sociali e civili e l'impegno per la dignità e la libertà delle persone. Dobbiamo ripartire per costruire la pace, consapevoli di dover procedere uniti perché solo insieme il desiderio di cambiamento diventa forza di cambiamento. Sono Fabrizio Cracolici, presidente ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della sezione Emilio Bacio Capuzzo di Nuova Milanese. Anch'io sostengo ICAN, Campagna per il disabito nucleare, che ha ottenuto il premio Nobel per la pace per il suo impegno sul grande tema, sul tema di importanza fondamentale che è quello del disarmo nucleare. Oggi noi assistiamo a un imbarbarimento e a una continua presa di forza nei confronti dei più deboli, dei più diseredati e la prepotenza del potere sta sempre di più contrastando i diritti di ogni cittadino e per questo noi oggi siamo qua a testimoniare al sostegno di una campagna internazionale per il disarmo nucleare. Noi facciamo questo perché non vogliamo più che avvengano quelle cose orribili che sono avvenute nel passato e prima di tutti la seconda guerra mondiale e il fascismo e il nazismo che hanno portato all'umanità odio, distruzione e morte e proprio per questo noi oggi contrastiamo chi vuole con la deterrenza delle armi nucleare imporre il terrore nel mondo. Sono Vittorio Agnonetto e sostengo la campagna di ICAM contro le armi nucleari. Credo che aver ottenuto il premio Nobel sia stato un risultato importantissimo intanto perché si è dimostrato che anche nell'epoca della globalizzazione grandi movimenti sociali universali organizzati in tutto il mondo possono ottenere un risultato. Un risultato importante perché in discussione c'è il futuro dell'umanità e noi italiani però abbiamo anche degli obiettivi molto molto concreti. Primo far sì che l'Italia ratifichi il trattato. Secondo ottenere che sul nostro territorio non vi sia più nessun ordine nucleare e invece noi abbiamo ordini nucleari della Nato e degli Stati Uniti. Terzo uscire dalla Nato che è un'alleanza puramente offensiva ma essere contro le armi nucleari significa anche prima di tutto battersi per la pace e noi sappiamo che non ci può essere pace senza giustizia sociale e sappiamo che si comincia a costruire la pace lavorando con i bambini, con i ragazzi, facendo formazione ed educazione alle scuole, formazione alla multiculturalità, formazione alla solidarietà e formazione ai grandi valori della vita perché non dimentichiamoci che la terra è il più grande bene comune del quale noi disponiamo. In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo. Slav Petrov che nell'83 evitò un disastro nucleare e quindi sottolineare la responsabilità umana e la capacità umana di scegliere direzioni alternative all'armamento nucleare contro la tendenza sempre più diffusa di invece delegare all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, le scelte fondamentali che invece attengono a noi e che non ci consentono poi di risolvere problemi enormi come le disuguaglianze sociali, come la non inclusione sociale, come la povertà e la discriminazione, orientandoci sempre nella direzione più sbagliata. e praticamente noi oggi siamo qui, WILF, WILF Italia, un'associazione di donne che ha sempre lavorato per il disarmo, dalle armi di piccolo taglio fino all'arma nucleare, che ha sempre creduto, ha studiato il nesso fra maschilismo e militarismo e ha sempre puntato l'asse sull'importanza di spostare il finanziamento dal dossier militare al dossier civile e tanto più in un momento come quello attuale di pandemia, dove è evidente che le carenze dell'assistenza sociale, della cura, dell'attenzione si sono palesate ed è uno scandalo tutto questo a confronto con la spesa militare. Quindi noi in particolare, come WILF, siamo molto impegnate sul piano dell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati, quindi abbiamo un'idea molto chiara di come non ci sia un'attenzione, non ci sia un'attenzione a far lavorare le figure che favorirebbero l'inclusione e non si capisce come aiutare all'inclusione, può essere già una forma di cooperazione internazionale e quindi per noi è molto evidente il fatto che la dispersione di energia e di risorse economiche è nella direzione sbagliata. Abbiamo voluto proporre un appello per intitolare uno spazio urbano o anche un giardino, anche una strada a Stanislav Petrov e questa campagna è stata firmata anche da Alex Zanotelli, è stato uno dei primi firmatari e quindi questo è il tipo di responsabilità umana che noi vogliamo favorire e siamo vicini alla possibilità che entri in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari perché siamo arrivati a 45 ratifiche. L'ultima è quella di Malta, nel giorno dell'anniversario di Hiroshima hanno ratificato l'Irlanda, la Nigeria e Nui e siamo valutando che cosa succederà nel momento in cui finalmente il trattato potrà entrare in vigore ed è proprio su questo che comincerei con una nota di un nostro caro collaboratore fisico nucleare che è Luigi Mosca che dalla Francia ci manda questa sua nota. Allora, la leggo. L'ormai prossima è l'entrata in vigore del trattato di proibizione delle armi nucleari, TEPAN e poi l'ormai prossima entrata in vigore del trattato di proibizione delle armi nucleari è certamente un evento di portata storica che anche solo dieci anni fa sembrava un sogno irraggiungibile. Il TEPAN infatti rende le armi nucleari illegali secondo il diritto internazionale, le stigmatizza per sempre, avrà un ruolo essenziale nel processo della loro eliminazione effettiva ed in seguito garantirà l'irreversibilità di tale eliminazione. La presidente della conferenza ONU a New York, Elaine White Gomez, esulta subito dopo lo storico voto del 7 luglio 2017 per l'adozione del trattato internazionale di interdizione delle armi nucleari. Che cosa proibisce principalmente il trattato TEPAN? Risposta. Proibisce la produzione, il test, il possesso di armi nucleari, la minaccia di usarle e a maggior ragione il loro uso. Proibisce inoltre il trasferimento e la ricezione di tali armamenti verso da parte di altri Stati. Quali sono le condizioni per poter aderire firma più ratifica al TEPAN? L'articolo 4 del TEPAN richiede agli Stati dotati un impegno di disarmo nucleare totale in tempi e modalità approvati dagli Stati già aderenti al TEPAN e sotto il controllo della IAEA, International Atomic Energy Agency, per poter aderire al TEPAN. Per cercare di capire meglio a che punto ci troviamo attualmente propongo di considerare un'analogia, quella di un'escursione in montagna. Partendo dalla pianura siamo saliti fino a un rifugio, diciamo intorno ai 2500 metri di altitudine, che rappresenta l'entrata in vigore del TIAN. Il percorso non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ora però ci troviamo a dover scalare una parete di roccia che rappresenta gli Stati nucleari con i loro alleati. Appare chiaro allora che la strategia utilizzata per arrivare sino al rifugio non basta più per questa seconda e decisiva tappa della nostra escursione. Occorre trovare una strategia complementare. Uscendo ora da questa metafora, si tratta di ben analizzare la situazione geopolitica per cercare di trovare la migliore strategia per coinvolgere gli Stati nucleari e i loro alleati in un processo di disarmo effettivo. Per questo è importante considerare che i nove Stati dotati non hanno adottato tutti lo stesso atteggiamento nei confronti del processo che ha portato al TEPAN, né hanno la stessa dottrina riguardo alle loro armi nucleari. La Cina, ad esempio, nonostante il suo regime totalitario, potrebbe forse avere un ruolo interessante per rompere il ghiaccio e iniziare un processo di presa di coscienza da parte di tutti del rischio attualmente crescente e inaccettabile di una possibile guerra nucleare regionale o mondiale, in modo da poter innescare su questa base un processo di disarmo multilaterale coordinato. Il ruolo della società civile dovrebbe consistere nel far di tutto per favorire e stimolare questo tipo di processo, appoggiandosi sull'esistenza del TEPAN e del suo possibile effetto catalizzatore in tale processo di disarmo. E l'Italia in tutto questo? L'Italia, grazie alla sua partecipazione importante nella Nato, potrebbe innescare una presa di coscienza in seno all'Alleanza Atlantica sulla necessità di aprire un dialogo con la Russia e di instaurare un regime di fiducia al posto delle tensioni attuali lungo la frontiera all'est dell'Europa, cominciando con il cercare delle soluzioni condivise per le comunità russofone nei paesi dell'est che costituiscono altrettante bombe a ritardo, come si è già visto nel caso dell'Ucraina. Si tratta, in altre parole, di creare le condizioni per poter poi realmente affrontare il progetto di disarmo nucleare. Lo stesso Jens Stolterberg, norvergese, segretario generale della Nato, sembra aperto a questo tipo di prospettiva. Si può vedere il suo intervento a Bruxelles del 10 giugno scorso, la Nato, tra dieci anni all'Inc, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto io darei la parola a Alfonso Navarra, di Disarmisti Esigenti, che ci illustrerà un po' la sua analisi sulla situazione. Questa iniziativa è il 26 settembre del 2020, giornata ONU contro le armi nucleari. Io sono Alfonso Navarra, portavoce dei disarmisti esigenti. Ed ero presente a New York quando l'ONU ha adottato il 7 luglio 2017 il trattato di proibizione delle armi nucleari con 122 voti di Stati a favore. La rete di associazioni chiamata Campagna Internazionale per l'abolizione delle armi nucleari nel dicembre poi ha avuto il premio Nobel, quella che è stata dietro questo risultato. Cioè l'ONU con 122 Stati ha adottato e ora deve passare per l'entrata in vigore alla fase delle ratifiche. Attualmente siamo credo a quota 45. Siamo ottimisti che domani, in questo momento in corso dell'Assemblea dell'ONU, potremo arrivare proprio alle 50 ratifiche necessarie per l'entrata in vigore del trattato. Perché l'anno scorso sette paesi hanno scelto questa data simbolica, la giornata ONU contro le armi nucleari, per ratificare, depositare la loro ratifica. Quindi in analogia con quello che è successo l'anno scorso è probabile 45 più tot. Già il 26 settembre di domani avremo non tecnicamente ma politicamente l'entrata in vigore. Perché tecnicamente occorre aspettare 90 giorni dalla ratifica del cinquantesimo Stato. L'entrata in vigore dovrebbe produrre da subito, entrando questo trattato nel diritto internazionale, quello che si chiama effetto di stigmatizzazione degli Stati che possiedono le armi nucleari. Naturalmente poter dire che sono moralmente riprovevoli, e dobbiamo in qualche modo fare una pressione perché rientrino in riga, non significa aver ottenuto l'eliminazione delle armi nucleari. Perché attualmente ci sono nove Stati in possesso di cui otto ufficialmente, cioè Israele che non conferma e ne smentisce, più una serie di Stati, 44, che hanno le potenzialità, secondo l'Agenzia Internazionale di Energia Atomica. Perché il nucleare civile costituisce una base tecnica per poter arrivare al nucleare militare. Allora, il 26 settembre è stato scelto dall'ONU, proprio in relazione alla vicenda che ha citato Patrizia Sterpetti, del colonnello russo, sovietico allora, Stanislav Petrov, che riuscì a scoprire con l'intelligenza umana, con il buonsenso, un falso allarme di missili americani diretti contro Mosca. Quindi l'intelligenza umana, naturale, non artificiale, di un analista, di una persona con coscienza e buonsenso, ha evitato di innescare il meccanismo burocratico che avrebbe forse portato a una risposta catastrofica, forse alla fine del mondo. Perché c'è un film, un documentario, in cui Petrov interpreta se stesso, in cui Kevin Costner domanda, in questo film Petrov va a New York a prendere il premio per questa sua azione, Kevin Costner domanda a Petrov, ma qual era il protocollo previsto? Beh, diciamo, essendo un attacco contro la capitale, risponde Petrov, del nostro Stato, era previsto un primo lancio di avvertimento di 200 testate. 200 testate significa mezza America distrutta. E questo avrebbe dovuto passare la palla ai superiori e quelli praticamente in 5-10 minuti avrebbero dovuto prendere la decisione di lanciare o non lanciare. Allora Petrov fece una cosa da obiettore a regolamenti burocratici, cioè decise di non avvisare i superiori, cioè la persona che ragiona, che pensa, che si pone dei problemi, che capisce la gravità, qui c'è in gioco la vita e la morte della persona. E prese la decisione, io non avviso i superiori, perché intanto i computer continuavano a mostrare gli allarmi sugli schermi, voi immaginate una grande sala piena di schermi, di satelliti che monitorano l'intero mondo, nei vari schermi che inquadrano una parte del mondo. Però lui dice, ha avuto l'intelligenza di dire, beh, vediamo cosa dicono i radar, perché i satelliti individuano prima il messaggio, i radar invece sono sul territorio, quindi la risposta, la segnalazione di radar arriva dopo. Quindi i cinque missili che segnalavano sugli schermi i satelliti, poi non furono confermati, quindi Petrov ha avuto l'intuizione, dice, ma che è sta roba, ma che significa, calma, calma il gesso, calma il gesso, non proprio queste parole qua, ma è il senso di questo, aspettiamo, non prendiamo decisioni, e infatti la conferma del radar non ci fu. E come sappiamo, nessun missile segnalato dagli schermi, dei computer, tramite i satelliti, poi esplosano, questo ce lo dicono i fatti. Ora, il problema attuale che noi vogliamo segnalare è che purtroppo la tendenza dello sviluppo tecnologico, i cosiddetti progressi di una tecnologia usata bene, molto spesso usata malissimo per le esigenze militari, sta portando ad affidare la decisione non più al Petrov, ma in modo totalmente automatico alla macchina, se ne sta discutendo. Infatti, un ex segretario della difesa, Robert Wark, ha proprio denunciato questo pericolo, dice, i principali pericoli per una guerra nucleare per errore possono venire da questo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che si appoggia anche per poter funzionare sull'uso militare della tecnologia 5G. E per questo, in questa conferenza, diamo lo spazio a uno scienziato esperto che fa parte dell'alleanza Stop 5G, Andrea Greco, è una protagonista delle lotte contro gli effetti negativi sulla salute, dell'elettromagnetismo. In questo 5G, Antonella Nappi del gruppo di donne di Difendiamo la Salute. perché noi cerchiamo nella nostra azione di non essere settoriali, ma di creare sinergie, unificazioni, convergenze con tutti gli altri temi. Già Patrizia parlava dell'apporto, il discorso dell'accoglienza degli immigrati. E poi interverranno anche, proprio perché, diciamo, qual è il nostro concetto di fondo? Non possiamo affidare la sicurezza dell'umanità a una tecnologia sempre più disumana con l'illusione che possa risolvere i problemi che noi non riusciamo a risolvere secondo il buonsenso. Perché quello di cui abbiamo bisogno non è una tecnologia infallibile che non esiste. Noi abbiamo bisogno del disarmo e della fiducia tra i popoli. Quindi la soluzione del problema delle guerre è creare e ammettere che l'umanità è unica di fronte gravi problemi comuni e il primo problema che deve risolvere siamo in momento di pandemia è la pace con la natura che deve fare. Perché proprio la pandemia è stata una risposta al nostro violentare la natura allora l'umanità deve fare la pace della natura in questo sforzo cambiare sistema creare anche la giustizia sociale affrontare i problemi di disuguaglianza sociale per questo parliamo di terrestrità che è cittadinanza planetaria integrata col paradigma ecologico che vuole che l'ONU riconosca ufficialmente i diritti dell'umanità in quanto tale e della natura. E nell'appello che abbiamo fatto che abbiamo promosso primo firmatario Alex Zanotelli ci sono tante realtà c'è chi si sta occupando della convergenza dei movimenti sulla società della cura e quelli che promuovono il rapporto tra la lotta per la pace e per l'ambiente con la lotta contro l'emergenza climatica e qui in particolare abbiamo gli amici di Accademia Cronos Oliviero Sorbini ed Ennio Lamalfa che poi ci diranno una notizia molto positiva. Il discorso sulla cultura è molto importante e qui abbiamo anche Maglio Giacanelli dell'Associazione dei Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare un'associazione mondiale che ha già ricevuto il primo Nobel della pace nel 1985 ed è stata benemerita perché è stata tra le prime a sollevare il cosiddetto problema dell'inverno nucleare cioè degli effetti climatici disastrosi di una possibile prima guerra atomica e poi abbiamo il premio 9 per la pace nel 1985 l'ho ricordato i protagonisti di movimenti che si oppongono contro il riarmo nucleare il fatto che per esempio in Italia nel contesto di un riarmo generale si cerca addirittura di sostituire le vecchie atomiche ospedate con nove più potenti trasportabili dagli F-35 e tutto questo collegate alle teorie del primo nucleare per le guerre limitate di teatro qui abbiamo Patrick Boylan di Slinkegan che lavora a Roma che anche lui interverrà in questa conferenza per noi è molto importante molto importante però cercare di aprire un minimo di discussione di consapevolezza nell'opinione pubblica per questo abbiamo lanciato la campagna di intitolare di onorare Petrov per sensibilizzare sul rischio nucleare che si aggrava grazie al tentativo di affidare la soluzione alla tecnologia invece che al disarmo intitolare vie, piazze, giardini fare concorsi per murales biblioteche occorre che in ogni città si creino dei comitati che sollecitino i consigli comunali gli enti locali perché vengano prese queste decisioni questo può creare dibattito pubblico e questo dibattito pubblico può aprire degli spiragli una non notizia perché il fatto che abbiamo la spada di Damoc di una guerra nucleare per errore che si aggrava non lo dice nessuno questo è molto importante e quindi che il consiglio comunale ne dibatta sarà un modo anche per cercare di aprire il dibattito tra la gente ecco questo è quello che dico quindi ci sono gli adesso possiamo vedere questa breve intervista presentazione della filosofia di Giovanni Grieco che è un esperto dell'Alleanza 5G e dei campi elettromagnetici buongiorno a tutti ringrazio innanzitutto gli organizzatori per l'invito che mi hanno fatto parliamo di 5G e di implicazioni militari del 5G innanzitutto pensiamo che le telecomunicazioni costituiscono il sistema nervoso di ogni esercito quindi avere un vantaggio sul nemico sul piano delle telecomunicazioni significa quasi sempre assicurarsi la vittoria allo stesso modo danneggiare infiltrare o neutralizzare la rete di telecomunicazioni del nemico significa anche qui avere ottime possibilità di vittoria e il 5G da questo punto di vista è l'ultima tecnologia in fatto di comunicazioni per quanto riguarda la telefonia mobile ma oramai quando parliamo di telefonia mobile non parliamo più soltanto di telefonia ma di tutta una serie di applicazioni audio e video e anche di realtà virtuale che oramai fanno dei nostri smartphone molto molto più che un semplice telefono e quindi il motivo di base per cui il 5G interessa ai militari è proprio che permette di avere tutta una serie di opzioni a livello delle delle trasmissioni dati delle telecomunicazioni che possono fornire un vantaggio tattico e strategico fondamentale tutto questo grazie anche al fatto che il 5G rispetto alle generazioni precedenti abbasserà ulteriormente la latenza cioè il tempo di risposta del sistema e questo significa ovviamente che per i sistemi d'arma avere tempi di risposta più brevi della rete vuol dire avere un vantaggio sul nemico e permette anche una banda di trasmissione dati molto molto più ampia circa 100 volte più ampia rispetto al 4G e questo significa la possibilità di armi che si autogestiscono in un certo senso pensiamo ai droni sia nel campo dello spionaggio sia in campo offensivo comunque di azioni militari saranno in grado di essere governati a distanza in tempi molto più rapidi in un numero maggiore o addirittura potranno in abbinamento con l'intelligenza artificiale avere una loro autonomia di aziende gli Stati Uniti hanno valuto un documento di strategia 5G in campo militare dove si legge che il dipartimento della difesa deve impiegare nuovi concetti operativi che usino un'ubicua connettività offerta dal 5G per accrescere l'efficacia la resilienza la velocità e la letalità delle nostre forze armate ovviamente lo stesso si può dire per la Cina che è il grande rivale in questo momento per quanto riguarda la tecnologia 5G degli Stati Uniti e per la Russia tutto questo naturalmente porta a un escalation in campo militare per cui stiamo parlando di armi impersoniche cioè missili in grado di viaggiare a 4-5 volte la velocità del suono che potranno evitare i sistemi difensivi grazie alla tecnologia 5G droni lo dicevamo prima sia di spionaggio che droni killer che potranno essere poi combinati con l'intelligenza artificiale per prendere decisioni autonome leggiamo ancora nel documento degli Stati Uniti che la tecnologia 5G rappresenta una capacità strategica determinante per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per quella dei nostri alliati e quindi da questo punto di vista non è soltanto una questione di supremazia di guerra commerciale con la Cina ma c'è anche una questione strettamente legata alla difesa o comunque agli aspetti militari e da questo punto di vista si sta già progettando la generazione successiva cioè il 6G con tempi di latenza ulteriormente abbassati e con una banda ampliata ulteriormente di un fattore 100 il rischio è quello di trovarci in una situazione in cui le future guerre speriamo ovviamente che non ce ne siano ma in cui le future guerre saranno combattute da robot sostanzialmente robot che appunto prenderanno decisioni autonome e quindi non ci sarà più nemmeno un operatore in remoto che deciderà se lanciare o meno il missile se bombardare o meno una città e tutto questo dovrebbe quantomeno preoccuparci e farci porre tutta una serie di domande per cercare di mettere un freno a questa a questa deriva in campo indittare e tecnologico grazie a tutti allora introduco introduco Antonella Nappi che approfondirà questo aspetto lei è una docente di sociologia in pensione ed è un'esperta di rapporto fra salute e donne ecco Grieco mette bene in evidenza il rapporto commerciale di far pagare alle popolazioni il 5G acquistando un mucchio di altri oggetti nuovi con l'utilità militare ma Grieco è anche un difensore della salute contro l'elettromagnetismo contro i raggi elettrici e radio qui non lo dice ma io conosco bene il movimento contro l'elettromagnetismo e conosco bene le ricerche internazionali e anche italiane l'istituto Ramazzini di Bologna ne ha fatte due dove dimostra la moltiplicazione dei danni da inquinamento con l'infittirsi dell'elettromagnetismo e anche dimostra le malattie cancerogene la seconda ricerca proprio da elettromagnetismo dunque finisce che i cittadini non solo pagano per i militari gli impianti 5G rischiando di morire per guerre assurde ma anche donano la loro salute la perdono per acquistare tutti gli oggetti che servono per mettere in piedi i militari cioè oggetti radio che ci fanno venire il cancro ci fanno aumentare l'elettrosensibilità che ciascuno di noi ha stimolata stimolata finisce col diventare questa infiammazione cranica questa infiammazione del cervello che è l'elettromagnetismo da saltuaria e provvisoria a cronica il 3% dell'umanità risente di già di questa infiammazione elettromagnetica grazie allora adesso darei la parola alla Malfa e a Sorbini di Accademia Cronis Accademia Accademia Cronis Buongiorno a tutti io mi interesso di climatologia i fenomeni in cui si trova il pianeta Terra ad affrontare tre sono i momenti difficili che affronta questa umanità che noi secondo i veda indiani siamo la quinta umanità e il problema del nucleare del 5G di cui del 5G vorrei aprire una piccola parentesi i miei amici di Berna in Svizzera in un quartiere in cui erano stati installati due anni fa questi ripetitori del 5G hanno dichiarato di avere tutti mal di testa e forte insonnia sicché la città ha eliminato questi ripetitori quindi c'è un fatto già acclarato scientifico del danno che fa il 5G non è un'invenzione ecco detto questo quindi l'umanità si trova problema nel nucleare problema nel cambiamento climatico dovuto all'uomo abbiamo modificato il clima e ormai è diventata una macchina inarrestabile che si autoalimenta per cui ma anche volendo fare i bravi volendo non inquinare più mandare gas serra nell'atmosfera questa cosa mai è partita la terza è la presenza di questi patogeni di questi virus e anche microbi noi abbiamo delle segnalazioni che nessuno dice ma molto preoccupanti per colpa del cambiamento climatico il permafrost sapete che nell'ultima glaciazione la zona come l'Alaska la Groenlandia la Siberia avevano avuto una glaciazione anche sotto la terra per cui abbiamo fino a 3 metri di profondità terreni ghiacciati questo 20-30 mila anni fa era avvenuto adesso il calore si sta sciogliendo e quindi che succede che tutte le strutture abitative che hanno costruito in Alaska stanno crollando gli alberi pure ma il problema è che virus e batteri vengono non più ibernati e stanno uscendo fuori noi abbiamo degli amici in Canada che ci hanno detto guardate che il covid-19 è uno scherzo preparatevi a qualcosa di peggio quindi questo è il quadro che abbiamo dell'umanità quindi noi come Accademia Cronos si stiamo battendo sosteniamo queste iniziative è una notizia buona che posso dare il mio paesello Ronciglione che grazie ad Accademia Cronos ha ottenuto un grosso finanziamento regionale per fare un parco cittadino e gli abbiamo detto di dargli il nome di Petrukov e quindi il sindaco ha detto che è d'accordo grazie grazie buongiorno sono Lidiero Sorbini anch'io sono fra i fondatori di Accademia Cronos mi piace autodefinirmi un ambientalista ormai anche di da tanti anni vista l'età e anche nel campo dell'ambiente ho sempre svolto la professione di esperto di comunicazione in particolare di comunicazione socio-istituzionale quindi ho lavorato in collaborazione o per le istituzioni i ministeri in gran parte il ministero dell'ambiente stesso di solito anche in coalizione clima dove mi adopero al mio meglio sono sempre molto polemico dal punto di vista professionale con gli slogan e anche con tante iniziative che mi sembrano tutto sommato non non ammirate a ottenere dei risultati in questo caso invece mi ritrovo con uno slogan che è stato lanciato ultimamente che è No Ars Analyse ospedali che credo che invece sia una volta tanto efficace e credo dovremmo portarlo avanti perché è evidente se il professor Greco concludeva il suo intervento con dovrebbe preoccuparci certo dovremmo essere tutti molto preoccupati e non lo siamo quindi è un problema culturale è un problema della cultura e della società che da millenni purtroppo da quando è andata avanti è stata dominata dai militari il problema della cultura antimilitarista che è anche un po' diversa da quella pacifista cioè proprio noi siamo dominati dai militari in tutto il mondo dal più forte da chi ha la pistola in mano ecco io credo che no arsenali sia ospedali possa essere nel cammino che cerchiamo di riportare avanti nella strategia dei piccoli passi comunque un aggancio un aggancio con quelle milioni di persone che ignorano il problema perché questo qui è questa è la verità apro una parentesi non dico il nome neanche per non voglio certamente fare pubblicità ma ultimamente ho scritto in collaborazione con un giornalista un romanzo tratto da però da un saggio sul cyber spionaggio e scrivendo questo libro mettendo in bocca le battute ai personaggi mi sono trovato a a scrivere che chissà è ben più preoccupato di chi non sa cioè un agente NSE che è il protagonista pensa parlando con una ragazza ambientalista dice sì io sono d'accordo pensa fra se stesso sui problemi dei cambiamenti climatici ma sapessi quanti problemi abbiamo di guerra batteriologica o collegandomi anche al concetto espresso da la dottoressa Nappi una bomba elettromagnetica nessuna idea dell'agente comune degli effetti di una bomba elettromagnetica è pazzesco cioè forse per alcuni aspetti uno studio inglese lo reputava ancora più dannosa rispetto a una bomba nucleare perché gli effetti sarebbero quelli poi della fame e della sete esasperati cioè non funzionarebbe più nulla l'acqua diventerebbe la prima risorsa quindi vengono individuati come possibili scenari di assalto ai depositi di acqua alle piscine cioè chi ha una piscina potrebbe essere presa a martellate da chi non ce l'ha chiudiamo questa parentesi ecco quindi no arzionali sì ospedali ritengo sia un'iniziativa che dobbiamo cercare di portare avanti al meglio con il tempo non è necessario tirare fuori altri slogan questo qui dal mio punto di vista va benissimo e l'iniziativa di proporre ai comuni italiani di intitolare a Stanislas Petrov piazze parchi strade biblioteche quello che è è altrettanto interessante e direi intelligente perché perché va a colpire quell'aspetto culturale che è dove difettiamo quindi da questo punto di vista vorrei lanciare una proposta e chiudo che è quello di coinvolgere con tutte le sigle possibili che possiamo coinvolgere l'Anci l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani perché diffonda il nostro appello grazie grazie oliviero adesso do la parola a Maglio Giacanelli dei fisici per la prevenzione della guerra nucleare buongiorno presidente onorario della internazionale medici per la prevenzione della guerra nucleare sezione italiana e fu un Nobel per la pace nell'85 si sente sì e come ha ricordato Alfonso ho voluto parlare delle armi nucleari a gruppi di studenti liceali colloqui avvenuti fuori dell'ambiente scolastico per i noti problemi premessa alla loro buona conoscenza delle reazioni a catena dei radiattivi i giovani sono entrati a capofitto sul perché della corsa delle grandi potenze a migliorare le prestazioni delle armi nucleari gli studenti non riescono a trovare una spiegazione della futura distruzione dell'ecosistema planetario dei pochi intervalli temporali fra un lancio di armi nucleari e la rappresaglia dei tentativi di controllare l'errore umano e tecnico da parte delle organizzazioni internazionali oltre alla profonda ammirazione per l'eroe Petrov qualcuno azzarda nelle risposte è il profitto ma viene motteggiato il solito di sinistra un altro ma la guerra c'è sempre stata anzi si vis pacem parabellum ed un altro di rimando prova a capovolgere la frase se conservi la guerra prepari la pace è sempre lo stesso qualcuno sgattagliola nell'antichità storica la polis le stragi barbariche un altro ricorda le stragi di Hiroshima e Nagasaki ad intervallo di appena tre ore l'una dall'altra perché si chiede gli USA non hanno chiesto scusa al Giappone gli studenti trovano un nesso fra questo concetto di potenza e il rifiuto di firmare il bando delle armi nucleari da parte delle grandi potenze incredibilmente trovano nella politica lo strumento internazionale per tendere alla pace erano a conoscenza del discorso del Papa del 20 maggio 2018 avvenuto il giorno prima della firma fra Trump e Kim Jong-un dove ricorrevano alcune parole in entrambi i discorsi ci siamo salutati convinti che le scuole siano un'ottima palestra per la conoscenza grazie Maglio Giacanelli allora voglio ricordare un altro un altro contributo importante che si sta determinando che è un po' un proseguio delle iniziative del partenariato aeromediterraneo della conferenza di Barcellona e vi voglio leggere alcuni punti della dichiarazione di Palermo che è stata di cui promotore Francesco Locascio che sta appunto valorizzando anche il partenariato con la Tunisia che è uno dei 122 paesi che hanno firmato in favore del trattato per la proiezione degli armi nucleari ed è appunto un processo in corso per la denuclearizzazione dei porti mediterranei aperto all'adesione di tutti i comuni vogliamo affermare il diritto alla pace per tutta l'umanità l'ONU ha sancito questo diritto con le dichiarazioni 71 a 189 vogliamo che sia applicato ai nostri popoli del Mediterraneo e del Medio Oriente vogliamo che questo diritto abbracci i diritti sanciti dalla Carta della Terra dall'Accordo di Parigi COP21 dalla Carta di Palermo e dalla dichiarazione di Barcellona vogliamo pertanto che il diritto alla pace sia in primo luogo riaffermazione della necessità del disarmo a cominciare dalla proibizione delle armi nucleari e dalla facoltà di obiezione a tutte le guerre vogliamo che il diritto alla pace includa l'ecologia nei rapporti tra gli esseri umani e la natura sogniamo un Mediterraneo libero da conflitti libero da armi di distruzione di massa libero da muri frontiere vigilanze armate libero nella circolazione delle persone e delle idee ponte di dialogo tra persone impegnate in un lavoro comune mare di pace e non di conflitti vogliamo che la zona libera dalle armi nucleari dell'Africa si estenda a tutto il Mediterraneo e l'intero Medio Oriente vogliamo farci ambasciatori della pace in modo organizzato e non soltanto simbolico questa è una iniziativa importantissima che cerca proprio proseliti allora io darei la parola adesso a Patrick Boylan di Peace Link puoi prendere grazie uno degli oratori che mi ha preceduto ha sollevato mi sente a basso ok uno degli oratori che mi ha preceduto ha sollevato la domanda ma questo folle corso alle armi come fermarlo non si ferma si va bene blocchiamo le sommagibili nucleari nelle porti ma questo è il velo di un dettaglio perché ci sono i sottomoridi nucleari perché c'è la corsa alle armi e ha detto la prima ipotesi è la folle corso al profitto ma forse dobbiamo scattare questa ipotesi perché è troppo di sinistra ma scusa il fatto che sia di sinistra non è un motivo per scattarlo è il motivo è la ragione e bisogna attaccare il caos questa causa che è all'origine guarda noi stiamo parlando di persone che decidono l'abrogazione delle armi nucleare attraverso il loro pupazzo di turno che sarebbe Trump nel caso degli Stati Uniti ma dietro di lui ci sono la grande finanza grandi imprenditori che sono sociopatici quindi trattare con queste persone e farle ragionare non è possibile i ragazzi del movimento Extinction Rebellion avevano si sono posto la stessa domanda per il cambiamento climatico le grandi industrie vogliono inquinare perché è il progetto e non c'è modo di farle ragionare fanno finta di fare cambiamenti per fare una produzione più verde ma in realtà è greenwashing è solo propaganda perché la convenienza sta nel fare profitto e con un totale mancanza di riguardo per l'essere umano perché sono sociopatici quindi i ragazzi hanno detto bisogna operare a un livello di disruzio di sciopero internazionale di fermare l'economia questi signori ragionano solo in termini di quattrini ebbene fermeremo e il mese prossimo riparte Extinction Rebellion con una serie di iniziative nel mese di ottobre che mirano a fermare l'economia e creare molto disagio a molti livelli perché questo è l'unico metodo per fermare i signori che decidono le guerre io so che per molti riguardi il movimento antinucleare il nostro bravissimo Alfonso Navarra ha cercato di lavorare con i ragazzi di Extinction Rebellion nel nord io ho cercato di stabilire i contatti con loro a Roma sono interessati sì ma comunque la loro attenzione è sul pericolo del cambiamento climatico che tra dieci anni può essere altrettanto devastante quanto una guerra nucleare farli adottare una seconda rivendicazione Alfonso penso che sia una strategia perdente non lo faranno mai siamo noi capaci di lanciare un gruppo di ragazzi in tutte le regioni d'Italia per cominciare io ho conosciuto un gruppo che si chiama Our Voice ragazzi nelle Marche che sono venuti a Roma per protestare contro il processo Julian Assange davanti all'ambasciata è una rete che esiste e che potremmo interessare alla causa dell'antiproliferazione non solo antiproliferazione ma effettivo abolizione delle armi nucleare attraverso attività di distruzione vogliamo farlo? Questa è la domanda che io vi pongo Allora in questo momento abbiamo previsto delle domande dal pubblico dai giornalisti se qualcuno ha delle questioni che vuole porre dei chiarimenti sì anche prego solo due parole in effetti le armi nucleari possono spazzare via l'umanità in un battere d'occhio compariamo come umanità allora io sentendo gli oratori mi chiedevo ma perché siamo arrivati a questo a questa corsa frenetica alle armi nucleari forse l'uomo ha perso l'equilibrio ha perso come dire la sua centralità è preso diciamo da battaglie esterne mentali che nulla hanno a che vedere sulla sua centralità la sua sopravvivenza allora io credo che la prima cosa da fare per non arrivare proprio a queste battaglie sia riformare l'uomo cioè fin da bambini a scuola fargli capire il rischio dove andiamo incontro con la tecnologia la tecnologia può aiutarci come ucciderci quindi quello che è essenziale è la coscienza è la coscienza delle persone se abbiamo coscienza non arriveremo mai se avessimo coscienza a a parlare di tutte queste cose qui non ce ne sarebbe bisogno perché cambieremmo subito che ne va della sopravvivenza dell'umanità che poi è stato contro stato ma la realtà è che siamo una corrente vitale unica quindi non esistono confini nell'umanità è la mente umana che si è creata questi confini non esistono assolutamente bisogna prenderne coscienza di questo quindi mi auspico che gli uomini e le persone di buona volontà aiutino soprattutto i bambini e anche i grandi a prendere coscienza di tutto questo tramite le scuole eccetera e tutte le strutture pubbliche ecco volevo solo dire questo è molto importante secondo me grazie ti ringrazio moltissimo non ti avevo riconosciuto per la mascherina Virgilio Violo di Flip sì io volevo riprendere proprio il discorso di Violo e anche di Sorbini nel senso sulla libertà e sul riformare e potenziare questo aspetto dell'umanità perché per esempio ICAN la campagna ICAN per l'abolizione delle armi nucleari ci dice che ci sono una serie di paesi come per esempio l'Australia dove il 79% della popolazione è contraria alle armi nucleari in Svezia sono il 78% in Norvegia il 75% in Giappone l'84% il 70% in Italia il 68% in Germania il 67% in Francia il 60% il 60% in Belgio e il 64,7% in America negli Stati Uniti cioè la popolazione è contraria e lì vengo un po' il discorso della nostra autonomia la mancanza di libertà noi siamo abituati da troppo tempo viviamo in un'eredità storica in cui noi siamo non siamo autonomi e la decisionalità è al comparto militare senza trasparenza ed è questa democrazia che noi vogliamo recuperare è questa democrazia è questa informazione e quindi io vorrei intanto scusate ringraziare la senatrice Loredana De Petris che sempre ci ascolta e sempre ci concede questa stanza questa sala prestigiosa e ripassare la parola a Alfonso Navara un secondo perché siamo a tre minuti purtroppo tre minuti poi magari tutti gli approfondimenti le domande gli interrogativi le questioni poste noi abbiamo un webinar organizzato per il 26 settembre domani dalle 17 alle 21 e lì riprendiamo e proseguiamo la discussione e la approfondiamo e la portiamo avanti per diciamo conclusione visto che dobbiamo qui sgombera a luna quello che vorrei sottolineare è che abbiamo la necessità di capire che la riforma antropologica dell'uomo può richiedere decine e centinaia di anni ci sono piccole avanguardie che la possono portare avanti quello che dovremmo fare subito è svegliare uscire dallo stato di letargia abbiamo dieci anni pare dico Nestition Rebellion per uscire dalla stretta del cambiamento climatico ora in dieci anni l'uomo non si riforma con gli uomini così come sono gli uomini le donne così come sono dobbiamo uscire dalla stretta dobbiamo svegliare e ci sono già le disponibilità perché è il potere organizzato l'informazione che non si occupa di queste cose che ci devia da quelli che sono i reali problemi e ci conduce su falsi problemi e questo discorso svegliare svegliare non esclude il discorso culturale di fondo ma lì si tratta di costruire una nuova società la pace tra l'uomo e la natura secondo principi di vera la società della cura come dicono alcuni che stanno costruendo la convergenza dei movimenti intanto dobbiamo salvare l'umanità e non solo l'umanità per quella che è con la gente che c'è quindi non giudicare dobbiamo coinvolgere l'umanità che c'è con la gente che c'è dobbiamo uscire fuori da questa stretta non dobbiamo smontare le teste cambiarle svegliarle è una cosa molto diversa e da questo punto di vista i metodi dei nuovi movimenti sono d'accordo con la sollecitazione di Patrick e dobbiamo molto contare sui giovani sul loro attivismo sulle energie che noi non abbiamo più ci fanno vedere i movimenti dei Frater for Future gli Estinction Rebellion che c'è una speranza e noi che siamo vecchi stagionati privi di tante energie molto spesso con le incostazioni dei nostri errori dobbiamo stabilire questo ponte di dialogo quindi io direi di rinviare al webinar e su un dialogo che prosegue poi c'era Ada che voleva fare una domanda ma teniamo presente ma non è una domanda è una questione perché siamo qui riuniti in fondo per te vorrei devo chiamare una tua frase che c'è per sentirti qui siamo registrati non si serve no siamo siamo sul radio abbiamo un'ora di tempo capito se parliamo così non è un dibattito privato qui tutto è registrato va su radio radicale non stiamo parlando da noi quello che resta viene registrato ringraziamo radio radicale che ci metterà sul sito questa iniziativa e ringraziamo le folle di giornalisti che sono accorsi per seguire questa concorrenza no una semplice riflessione su una risposta che ha dato Petrov quando tutto era ormai chiarito che lui aveva avuto ragione tutti lo festeggiavano eccetera qualcuno gli ha chiesto va bene tu hai avuto fortunatamente ragione ma se avessi avuto torto cioè se veramente c'erano dei missili che puntavano contro l'America cosa avresti fatto se ti fossi accorto di questo e lui ha risposto se c'è un paese che minaccia un paese straniero che minaccia il mio paese io prendo questo peccato sulla mia anima questa è una frase profondissima di sapore gandiano che insomma considerava la sofferenza assunta su di sé come espiatrice di qualche ingiustizia fatta da altri insomma mi è parsa una risposta esemplare io volevo soltanto aggiungere alle riflessioni di Patrick e di Alfonso che ci sono anche movimenti mondiali di donne comunque che sono impegnate sul disarmo e sulla anche perché alle donne è stata riconosciuta una capacità particolare anche perché noi celebriamo Petrof anche però perché Petrof come uomo militare era coinvolto le donne sono ancora meno coinvolte in questo processo quindi sono doppiamente vittime di scelte di operazioni cioè il livello della libertà proprio segna molti meno 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 quindi ricordiamo anche i movimenti delle donne ringraziamo tutti ringraziamo se vuoi parlare in effetti credo che sia una conseguenza della cultura che comunque è quella dominante quella che c'è adesso al livello globale c'è una cultura della guerra entro cui tutto si svolge ecco quindi sono certamente molto importanti le azioni che si possono fare per promuovere un'azione diretta immediata per bloccare tutto questo ma certamente c'è bisogno di un lavoro parallelo che vada appunto a toccare le coscienze attraverso la conoscenza e la conoscenza della propria matrice culturale il maschilismo che è perversa a livello mondiale è figlio secondo me di questa cultura della guerra lo stesso lo è per le donne che si vedono diciamo sempre maggiormente minacciate da una cultura che non smette mai diciamo di navegare in questo mare della guerra e parlo di cultura nel senso che in questo mare ci sono donne e uomini ci sono e ci sono le donne anche esse anche loro diciamo vittime in certo senso di se non se non hanno la coscienza del mare nel quale navigano della stessa cultura guerra fondaglia cioè secondo me alla base c'è proprio questo e andrebbe questo ricercato e smontato le famiglie le nostre famiglie sono impostate anche su questo tipo di cultura quindi questo lavoro va fatto nella scuola senza altro ma va fatto proprio nel riformare una certa impostazione culturale che vede le famiglie come artefici di questo proseguimento questo riagganciarsi a una cultura preesistente che è quella atalica quella che ci portiamo ormai avanti da secoli e la portano appresso poi si vedono in tutte le manifestazioni di bullismo nelle manifestazioni varie nel quale si può esprimere diciamo questo tipo di cultura e lo si può vedere nelle scuole con il bullismo nelle famiglie per esempio con trattamenti diversi a secondo diciamo del figlio maschio il primo genito la figlia femmina eccetera eccetera e questo secondo me è il vero problema il problema è che fondamentale è imperniato su questo concetto qui sulla famiglia patriarcale di un certo tipo che è diffusa nel mondo intero e sulla paura della donna di un certo tipo io ho insegnato per molti anni per esempio e ho visto che evidentemente le donne erano sicuramente avevano una preparazione sembrava un'intelligenza non credo che sia questione di intelligenza ma probabilmente di attitudine nelle quali si sono sviluppate diciamo certe qualità femminili erano sempre molto più pronte più preparate rispetto agli uomini però diciamo perché evidentemente avevano dovuto sviluppare delle un modo delle modalità per stare a questo mondo in una maniera diciamo possibile senza ritirarsi da questo mondo grazie grazie donato simone salutiamo non è un dibattito è una conferenza stampa di organizzazioni che presentano delle iniziative qui siamo al senato per fare una conferenza stampa quindi ci sono domande dei giornalisti interventi del pubblico abbiamo presentato le nostre proposte il dibattito c'è domani al webinar questo va su siti istituzionali registrato e pasturaglio radicale dobbiamo sapere gestire queste cose una cosa è un convegno e una cosa è una conferenza stampa che dura in cui alcune organizzazioni lanciano delle proposte noi l'abbiamo fatto domani c'è il webinar e la discussione continuerà ringraziamo di nuovo la senatrice Loredana De Petris che sarà forse la settima guardate guardate io vi confesso che mi avete mi avete veramente levato del tempo ai rifugiati è stata una cosa però vi valza la pena quindi ringraziamo ancora tutti quanti e cerchiamo di rimanere uniti e unite a presto che driva eu l'abirma un dell'epoca di l'aperta che ecco la